Se non saremo in condizioni di garantire la sicurezza del nostro personale, chiuderemo i pronto soccorso e manderemo tutti in commissariato. E perentorio l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che durante la sua visita all'ospedale di Vigevano recentemente teatro di episodi di violenza e danni del personale sanitario e delle strutture di accoglienza, traccia con fermezza la linea in merito a una questione sempre più pressante. Non tolterriamo in alcun modo qualsiasi atto di violenza nei confronti del nostro personale. Altrimenti chiuderemo il proprio proccorso e manderemo ai commissariati se non garantiamo la sicurezza del nostro personale. La ringrazio. L'assessore ha visitato la sala d'accoglienza per il triage del pronto soccorso che era stata devastata lo scorso marzo da una persona che aveva dato in escandescenze e ha incontrato un'infermiera che nelle settimane successive era stata vittima di un'aggressione. Bertolaso ha poi chiesto insistentemente al direttore generale di ASST Pavia, Marco Paternoster, a che punto fossero i contatti con la questura per l'istituzione di un presidio di polizia fisso accanto al pronto soccorso. Il luogo individuato per ospitare le forze dell'ordine è la palazzina Exo Torino, tra l'ingresso del pronto soccorso e il cavalcavia La Manuola. Bertolaso ritiene indispensabile la creazione di un posto di polizia fisso in tutti gli ospedali lombardi o quantomeno in tutti i pronto soccorso. È importante che deve essere garantito in tutti gli ospedali di questa regione, soprattutto per quello che riguarda la frontiera, la pincera che è il pronto soccorso. Non è ammissibile che il personale sanitario, i medici, gli infermieri, tutti gli operatori che lavorano a viticatore al giorno per garantire assistenza siano anche a rischio di qualche facino rosso o di qualche intemperanza che non possiamo assolutamente accettare.